Ola raga Benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla State vedendo un nuovo sfondo Che ancora non è completo Penso che verso fine settimana ci sarà un video totalmente a riguardo di tutto quello che succede qua dietro Comunque benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla Oggi proveremo a portare il delfino nell'acquario Sperando di non farlo crepare Detto questo lasciate un pollice in su Comunque benvenuti qua sotto e direi possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Allora oggi andremo a portare appunto il delfino dal mare all'interno del nostro bellissimo mega acquario Sempre se riusciamo a non farlo crepare eccetera eccetera Quindi direi che possiamo subito metterci al lavoro perché dobbiamo fare un bel poco di cose Ma prima di tutto dobbiamo prendere tutti gli occorrenti Allora intanto voglio dirvi una cosa importantissima Sono trascorsi episodi mi hanno dato un sacco di consigli con i nomi E il problema è che la maggior parte mi consigliava il nome delfi Che a me non piace ragazzi E' un nome veramente brutto Scontatissimo E sinceramente non voglio chiamarlo delfi Però non so per quale arcano motivo C'è un commento che ha un fracco di like Dove indice di chiamare delfino defcon Perché c'è anche un altro che ha un sacco di like Che dice di chiamarlo roberto Quindi sono indice di chiamarlo defcon o roberto Oppure chiamarlo invece di flippy Lo chiamiamo floppy Sia per i floppy disk ma anche perché forse sarà un flop Il fatto del delfino Comunque stavo anche cercando io Il legno del advancement Ma non lo trovo Raga me lo sono dimenticato di vedere nello scorso episodio Ma mi sa che se l'è brasato Lo smistamento chest Quindi lo vedremo o a fine episodio O nel prossimo episodio Il prossimo episodio sarà un episodio particolare Non è sicuro ma forse lo sarà E adesso invece dobbiamo andare a vedere un'altra cosa Intanto questa terra non ci sarebbe La possiamo buttare via Jackie tu stai qui per favore Ok Allora ci serve il laccio Quindi dovrebbe essere dentro l'emerald box Credo E infatti C'è Eccolo qua Perfetto Che magari lo facciamo con il piccone Ragazzi a breve anche il nostro arco Dirà bye bye Quindi preparatevi a un video Dove andremo a fare il ritorno Del Bogunov FMJ Anzi volendo qua sotto nei commenti Consigliatemi una bella build Per il nostro arco Calcatevi che questo qui ha un Breaking 3 Power 5 Flame Infinity E Punch 2 Quindi consigliatemi se mettere Mending Oppure se fanno un altro uguale Sempre con Infinity Consigliatemi qua sotto nei commenti Perché comunque quest'arco ragazzi Noi lo stiamo utilizzando Da tipo 42 anni Quindi anche senza Mending Secondo me Può essere anche buona come cosa Comunque Allora mettiamo questo qui Questo qui Questo qui Mettiamo tutte le cose che non ci servono oggi A smistare Perfetto E direi che possiamo subito Iniziare Allora ragazzi Ah giusto giusto La name tag La name tag Giusto La name tag Mionic Oppure Delphi Che è veramente bruttino O Skipper O i classici nomi che usano tutti Raga Noi dobbiamo daregli un nome Strano Particolare Eccetera eccetera Quindi Adesso possiamo subito Andare a lavoro Quindi andiamo subito a trovare Questo delfino Da portare Nel nostro mega acquario Mi avete detto Di fare attenzione Al kart Perché Il kart Forse Può fargli del male Avete ragione Probabilmente Ma noi non ci importa Cioè noi proveremo lo stesso E soprattutto Adesso Rompiamo questo vetro Che prendiamo Subito prendiamo Ok perfetto Sì qua dentro Il delfino c'entra Altra cosa Dobbiamo prendere un attimo Dei secchielli Perché dobbiamo prendere Dell'acqua Per fare tutto il percorso Con l'acqua Così con la scusa Di portare il delfino All'interno dell'acquario Siamo fatti un piccolo ruscello In quella zona Che mancava E ci stava abbastanza Quindi adesso Prendiamo qua dentro Abbiamo due secchielli Opla E ci mettiamo subito A lavoro Comunque non vedo l'ora Ragazzi di finire Tutto Tutta questa stanza E per poi farvi Un tour completo Anzi se volete appunto Un tour completo Tutta la stanza Vi mostro tutto Come l'ho sistemato Organizzato Eccetera eccetera Fatelo sapere Sempre qua sotto Nei commenti Che ragazzi Lasciare un like E scrivere un commento Non costa nulla Anzi sono sempre Molto apprezzati Da parte mia Soprattutto i commenti Ok direi che possiamo Già iniziare A fare questa zona Qui Ci vorrà un pochettino Forse Oddio Non credo Forse non ci mettiamo Veramente tanto Sapete Poi noi intanto Qui facciamo Per bene così Ok Perfetto Facciamo in questo modo Un altro Andiamo a mettere Poi qua così Qua lo ripieghiamo Lo ripieghiamo di nuovo Mettiamo un altro qua L'altro lo mettiamo Qua Così qua si crea Infinita Insomma ragazzi Dobbiamo fare un sacco Di trick adesso Per mettere l'acqua Come si deve Anche se secondo me La tecnica di metterla Completamente a caso Funziona sempre A dire la verità Quindi se ne faremo In questo modo La metteremo completamente A caso Tanto prima o poi Si va a sistemare E comunque Ci sta già Come fiumiciatolo Però forse Andrò a cambiare In futuro off camera O poi direttamente In live sul sito viola Il fondale Perché il fondale In grass Non ci sta completamente E qui è troppo Sottile Ok Bene Qui non so sinceramente Cosa sia successo E un pochettino Esploso tutto Mi sa Quindi mettiamo Della terra In questo modo Magari non questo così E già È molto meglio Ok Fino a qua ragazzi Quasi tutto Praticamente collegato Facciamo in quest'altro modo Prendiamo dell'altra Ma di fine Un secchiello Come c'è finito qua dentro Ok E fino a qua Ci siamo Adesso ragazzi Manca soltanto Quest'altra parte Devi farlo direttamente così Guardate Tac Tac E dovrebbe pian piano Farsi questo qui Subito da sola Adesso Basta qua Metterlo completamente A caso l'acqua E come già state vedendo Ti sta facendo tutto quanto Da solo Quindi veramente easy Forse era un piccolo problema Farlo salire per di qua Non lo so Non lo so Può essere sarà un problema Oppure no Senceramente non lo so Noi mettiamo un bel poco d'acqua Come se fosse una piccola cascatina Questa qui E vediamo che riusciamo a combinare Comunque sì Vi confermo che questo posto Anzi questo riusciamo Andrà a migliorare col tempo Comunque sono anche molto felice Che vi è piaciuta quell'idea Di fare una stanza Oppure un museo Con tutti i biomi A me come idea piace veramente un sacco Ci vorrà un bel poco di tempo Per farlo Perché comunque Dobbiamo fare tutta la struttura Dobbiamo fare tutte le varie stanzette Insomma Abbiamo un bel poco di lavoro da fare Però visto che l'idea vi piace A questo punto Poi mi metterò subito al lavoro Allora L'idea che qua Ci siamo più o meno Dovremmo esserci Possiamo andare subito a dormire Alla volta del nuovo giorno Porteremo Floppy Dal mare Dentro il mega acquario Allora Vediamo se qua vicino c'è un delfino C'è una tartaruga Sopra il pontile In cobblestones Ma va bene Delfino Non ci sono delfini Giù Delfini Adesso guardate che Non troviamo i delfini Sicuro come non so che cose Che non troveremo assolutamente Delfini noi Non ci credo Eccolo Ragazzi l'abbiamo trovato Oh fermo 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 Fatti prendere L'ho preso L'ho preso Ragazzi l'abbiamo preso Ok Adesso pian piano Dobbiamo fargli fare tutta quella zona Ragazzi Ci vorrà un bel poco Ma sarà molto divertente E anche Molto difficile Perché già vedo questo delfino Che farà una brutta fine Quindi mi dispiace Se cropperai Non volevo io Allora facciamo per di qua Vieni 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 Fermo Pazzo Allora dobbiamo portarlo di là Quindi zio Deve venire da quest'altra parte Bravo Ma sei intelligente Ah vero i delfini sono intelligenti Dai Ok Spacchiamo qua E vediamo se riusciamo A farlo andare per di qua Ragazzi Ecco già questo qui è un male Vieni qui Vieni qui Vieni qui Bravissimo Bravo 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 delfino Bravo Vieni qua bravo Ma quanto sei bravo Vieni qui Allora mi frisce sopra un albero Guarda Dai Raga ci stiamo riuscendo Non so come Cioè non so con quale magia Del Natale ci stiamo riuscendo Vieni qui Vieni vieni Cioè devo fare ancora tipo 100 blocchi E poi c'è la parte del kart E io non ho un kart Ho kart Ok vieni Vieni qua Questa qui forse è la parte Ligeramente difficile Dai L'abbiamo incanalato È andata È andata Vieni Vieni bravo Ma se quasi così lo porto tutto con l'azzo Dentro Dentro l'acquario Dite che crepa Dai vieni 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 Bravissimo Dobbiamo salire per di Raga mi sto ricordando a memoria La strada al contrario Senza vedere dietro In bait creeper Da dietro Che mi fa saltare all'aria Vai Questo qui è il leggemento difficile Salta Bravissimo No 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 Così tanto scemo Ok Ora per di qua Bravissimo Vieni 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 Oh raga Ma sta resistendo abbastanza E poi abbiamo ancora noi L'effetto del conduit Ok siamo arrivati Carissimo Se io ti metto qui una fence Dimmi che ce l'abbiamo dentro Lo schifo box O dentro il build box Vediamo se qua dentro ce l'abbiamo Abbiamo una fence Qua no Ti prego build box Dimmi che abbiamo una fence Mannaglia Però guarda cosa possiamo fare Raga guarda quanto siamo smart C'è tac Facciamo subito una crafting In questo modo Sbam Crafting table La piazziamo qua E sbam Cart Tac Avevo fatto anche il cart No 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 No, entra dentro, entra dentro, entra dentro il kart Non c'è entrato, ragazzi È partito, dobbiamo portarlo subito così Oddio, piano B, piano B, piano B Subito dentro, subito dentro E mi spacca tutto qua Entra, entra, entra Entra, entra Sì, 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 è andata, è andata È nell'acqua, è salvo Ok, ci siamo, ragazzi Sembra che ci siamo Lazzo Raga, ce l'abbiamo fatta Vabbè, Floppy, benvenuto Perfetto, è qui, ragazzi Abbiamo Floppy Vedremo se Resisterà nei prossimi 5 minuti E soprattutto se resisterà Per il prossimo episodio Lasciamolo per ora così, chiudiamo tutto così non può scappare E vediamo se crema o meno Perfetto, l'hai finito Floppy, eccoti, Floppy Dai La mia unica preoccupazione, che sono sbagliata anche la vostra Preoccupazione, è che saltasse e finisse sopra le isolette Ma io dico, sono piccole Cioè, l'hanno fatta l'intelligenza un pochino artificiale A questo delfino Dove, se sopra un'isoletta Cerca il punto più vicino per andare in acqua Non penso che siano così Vai lontano da lì Di meno Vabbè, comunque Adesso, ragazzi, subito a vedere se riusciamo a trovare invece Il blocco di spruce Se, quando troveremo il blocco di spruce E torneremo nell'acquario Floppy è crepato, è schiattato, è esploso e tutto quanto Beh, è stato appunto un flop Quindi, direi che adesso possiamo cercare quel blocco Allora, per logica, quel blocco deve finire qua dentro Però, visto che siamo noi abbastanza sfortunati Può essere finito anche dietro le tramogge Qua non c'è Qua non c'è E qua non c'è Ok Allora, devo cercare questo dannatissimo blocco E qui mi sembra di non vederlo A meno che io sono cieco Ma non credo In più, qua dentro c'è Non c'è neanche qua dentro Noppen è Noppen Quindi dove cavolo è finito questo blocco? Non lo so La mia domanda è Non è che si è rotto di nuovo lo smistamento E mi ha messo gli oggetti tutti dentro una parte E quindi abbiamo veramente sconquassato il mondo Sembrerebbe di no per ora La mia professione è la cesta dell'ender pearl Ok Non mi piace questa cosa Ehi Quanto mi fa bene al cuore questa cosa ragazzi Il nostro smistamento chest Sta iniziando ad avere qualche problemino Abbastanza serio Dobbiamo fare subito una manutenzione velocissima Ma lo andrò a fare poi off camera comunque Perché tanto ormai rotto per rotto Difficilmente riesco ad aggiustarlo subito E previsco appunto aggiustarlo a fine video Quindi muoviamoci subito E vediamo se riusciamo a recuperare intanto il blocchetto Che ci serve Perché infatti era strano che non era finito in quelle chest Quindi sì Dovevo un pochettino vedere come posso fixare questo cacchio di smistamento Tanto ormai ma te ne abbiamo abbastanza Possiamo fare veramente un sacco di cose Quindi possiamo aggiustarlo senza nessun problema Allora credo che si sia rotto qua in questa fila Vediamo subito se qua abbiamo il problema Allora è la seconda chest Appunto Ok Questo perché qua dentro Questo perché qua dentro No raga si è abrasato il mondo Allora a questo punto Dovevo soltanto di cercare il nostro carissimo blocchetto E poi me la vedo io off camera Quindi facciamo qui un attimo Per una buona volta una scaletta decente Ok gunpowder E va bene Aspetta gunpowder E gunpowder C'è qualcosa che non cosa in questo smistamento chest raga Assolutamente Ai 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 Aaaaa Mi fa male tanto il corazzo Eccolo qua 40 piomi Aaaaa raga Niente Dovrò aggiustarlo per bene Già Comunque abbiamo tenuto il blocco Adesso andiamo a vedere se invece Floppy disk è ancora vivo o meno Dai non penso che sia morto Cioè sarebbe durato ovviamente pochissimo Dai per favore floppy Dimmi che sia ancora in acqua E sia ancora vivo Non lo vedo in morto Aspetta Eccolo E' vivo Raga dai Sembra abbastanza intelligente Questo delfino Quindi potremmo anche cambiare il nome Oppure Trovargli un compagno O una compagna In qualche altro video E dargli appunto un altro nome Beh ragazzi Sembra vivo E a questo punto Con questo bellissimo tramonto Di minecraft Io direi che questo video Della vanilla Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo video Della vanilla Finisce qui Spero vi sia piaciuto Se si Fate un pollicione in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché lì Ci sono altri link Nei miei social Come instagram E telegram Mi raccomando Seguimi su entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo Per iscrivervi al canale Basta che cliccate Nell'altra che sta qui Cicendo con lo schermo E se già L'avete fatto Potete cliccare A sinistra e destra Per vedere un altro mio video No ragazzi A questo punto Io vi saluto E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti